Ciao amici! Allora oggi c'è un video molto importante che ha proprio toccato il mio cuore perché ho fatto una ricerca scientifica proprio per voi anche se comunque ci sono stati un po' di interventi esterni che hanno impedito la mia empiricità oggi parleremo delle storie di Instagram perché è proprio un argomento che mi sta a cuore perché proprio io vorrei sapere con che cavolo di ordine ordinano queste storie ma non lo sapremo mai e io invece oggi sono andata a fondo in questa storia ho fatto una lista per punti delle cose che ho scoperto attraverso il metodo scientifico e incominciamo andate a seguirmi a proposito mi chiamo Sof1199 le persone che vedete per prime nelle vostre preview sono le persone che voi stalkerate di più perché io mi sono accorta che stalkerando questa mia amica io aprivo il suo profilo 7 volte al giorno lei mi compariva per prime questa cosa mi ha fatto pensare a quindi che due le persone che tu hai tra le prime anche loro hanno te tra le prime perché questo signore Mark Zuckerberg vuole creare una reciprocic... 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 recipro... reciprocic... 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 non lo so dire vuole creare un match come solo V vuole far innamorare le persone quindi Instagram si accorge che tu segui tanto una persona fare in modo che quella persona lì abbia te tra le prime storie da visualizzare e quindi tu comparirai tra le prime sue storie che lui può visualizzare quindi lui aprirà le tue storie e comparirà per primo ma perché c'è questo match, capito? che tu segui lui e quindi lui segue te per forza o lui segue te e quindi tu segui lui per forza numero 3 una cosa molto importante adottato è da quanto tempo segui una persona assiduamente nei miei screen vi avrei vinto tutti qua quelli dei 4 giorni in cui ho esaminato la situazione una mia amica Sveva Marcazzanne che è sempre rimasta prima a meno che non mi abbia visualizzato la storia perché era mia bancella comunque è sempre rimasta tra le prime questo vuol dire che lei comunque mi seguiva metteva mi piace alle mie foto visualizzava il mio profilo già da prima mentre le altre magari non lo facevano così tanto anche se in quei 3-4 giorni dovevano farlo molto di più direi però Instagram valorizza la continuità e quindi se c'è una persona che ti segue da tanto tempo è più importante rispetto ad altre che cominciano a seguirti così perché gli tira ho notato anche che le persone che ti seguono assiduamente ma sono anonimi, stalker anonimi che ti visualizzano a profilo 30.000 volte al giorno Elena! lei era comunque molto più in alto delle persone che comunque visualizzavano il mio profilo tipo Ilaria o Martina solo per mettere mi piace ma lei che mi seguiva solamente ma non mi metteva mi piace era più importante di quelli che in realtà ti mettono mi piace ma ti seguono di meno ovviamente questi sono dei collagio queste che ho fatto io, queste mie prove perché sono in ordine di come venivano visualizzate però tra ogni amica c'erano tipo 3-5 persone quindi le ho spostate e le ho rimesse però in realtà l'ordine era quello in cui comparivano quello che è nascosto è molto più importante di quello che traspare a te ma questo noi non lo scopriremo mai con certezza perché signor Marco Zuckerberg non c'è non puoi far sapere niente perché in realtà io mi sono informata cercando su internet questo algoritmo segreto ma non si può sapere noi possiamo solo andare con la lampadina così nel buio a cercare una soluzione che è molto 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 approssinattiva comunque tutte queste premesse valgono solamente se avete più di 50 persone che visualizzano le vostre storie perché se ne avete meno l'ordine è cronologico quindi non cambia niente ci sono un sacco di video che ti dicono che le persone che compaiono per prime sono le persone che ti stalkerano di più ma non è vero niente e non è neanche vero che sono le persone che tu stalkeri perché nelle mie storie sopra ci sono anche delle persone a cui io e profilo non lo guardo proprio quindi l'algoritmo misterioso del Zuckerberg non lo scopriremo mai perché io sono convinta che non appena uscirà questo video il signorino deciderà di cambiare tutto e io non poterò più applicare queste regole fondamentali alla mia deduzione kantiana e comunque un'altra cosa se volete sapere quasi quasi con mediocre certezza che una persona vi segua basta che vi facciate un profilo nuovo di Zecca e andate a controllare il profilo della persona che vi interessa aprite il profilo andate sui following e guardate in che ordine sono i following ovviamente tra i primi following di solito ci sono le persone più famose le persone con dati iscritti vabbè chi se ne frega però se trovate molto in alto una persona che in realtà è una persona comune quella molto sicuramente è una persona importante nel suo profilo e quindi che lui è più disposto a seguire a mettere un piaccio a guardare storie e quindi scoprirete se siete voi o se non siete voi e niente questo è tutto spero che le mie tecniche di stalkeraggio vi siano state utili ovviamente io sono sempre a disposizione per maggiori chiarimenti ma sono dimenticata una cosa fondamentale andate a fare immediatamente un musical.ly per il mio speciale 25.000 iscritte perché siamo arrivati a 25.000 oh mio dio amici ma come è possibile amici alla prossima grazie